sono le pensi dei top player che dicono che la giungla è il ruolo più astro broken beh è vero la giungla è il ruolo che decide principalmente la partita non vorrei esagerare ma dicendo nell'ottanta per cento dei casi ero lo che ha più impatto senza ombra di dubbio subito dopo c'è la mid e poi c'è la top se al tp ovviamente il support può fare la differenza non tanto la bot lane come corsia ma proprio il su e due play da sinaps flasha flasha flashami le palle flashami il cazzo flashami ma gli era dentro ma ero già era ero ero johnny è una donna di quella guardate pizzo guardate pizzo guardate pizzo devo dire avere i facchi infillati è ma top è ma top è ma top esfos è ma top non carri a esfos è ma top non carri a vieni qua guarda ti voglio sconsacrare la chiesa ma top non carri a esfos succhiami le palle top laner di merda succhiami le palle top lane broken roll top broken jungle broken mid broken fatela finita di dire stronzate se fate schifo e siete lo e lo state droppando è perché fate cagare dio porco basta dire sappor broken roll quando vinco tre lene continua a perdere i game e se se perdo un game gioco gianna se perdo un game gioco gianna davanti a mille persone ve lo giuro su dio ve lo giuro su dio che se perdo un game gioco gianna dio porco è voglio vogliono subito farmi giocare posso arrivare di nuovo giusto ma po ma porco dio ma c'avrai altro da fare dio stronzo parco bat wow ma dio po ma perché why the fuck why you have usain bolt jungler i have pistor pin pistora pin pisti marca madonna oh allora quando arrivare i pranzi inizio a giocare male dopo di questo game in tiratore logare lo smart mi sento già fuori focus per cui una buona idea sarebbe con lei logare lo smart bella olaf io continuo sull'herald olaf non ho la ulti fada boss tu ragazzi qualcuno me lo clippi ma io la faccio in quel momento il 5 domani non ci sono il 6 non ci sono il 7 dovrei tornare il pomeriggio però dipende in che condizioni storte torno quindi la steam del 7 un po in bilico poi l'8 ci sono il 9 che è il com'è la situazione arancione rossa gialla ragazzi e mazzi quindi se si può fare il 9 uno stream e festeggio il compleanno con loro altrimenti ci vediamo il 9 in stream direttamente grazie mille della compagnia patatoni michele ti ho votato moderatore più bello ragazzi vi dico io il moderatore più bello gli ho visti tutti i moderatori ragazzi gli ho assunti personalmente ragazzi c'è solo un moderatore valido si chiama martina ora ragazzi niente niente erald ragazzi ho detto niente chi leggi la chat ora ragazzi ci sono vediamo un po' voody grazie dei beat ma lei con gian è davvero forte può giocare a no grazie nico grazie steve bot li rollo come lo voto grazie per caricarmi ancora di più se perdo questo game dopo gioco nami dio porco vaffanculo e ora sono carico e ora farò uno v9 e ora farò uno porco dio c'è questi fight senza la serie sono proprio stupide inizia 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 Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì grande che stai aspettando hanno implementato la funzione del 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 surrendare prima quando abbiamo uno up a vabbè vabbè mamma mia mamma mia sto gioco una cosa non riesce a una ok abbiamo implementato la prova da irelia lì ditemi che top top con i carri champion non è bro che roll di a mamma è bro che non è bro che andate a dara e se dirgli è bro che lo decim Sì, sì, ragazzi Fidatevi che la top è balanced Guardate la clip Ace così impara a giocare Magari top Fate Nash, Cristo Dio Datemi 6 mesi 7 Masseo, Masseo, Masseo Cacca di uguale palle Cocodeu ammi le palle, Masseo Vengo a prenderti, in cima Grazie Resetto, grazie che babassone Oh ragazzi Riconcentriamoci, bando alle ciance Bando a Cianciullo Oxidion, andiamo Beast Mod, Beast Mod sto per delettarti Arrov, Arrov, Arrov Arrov, Arrov, Arrov Arrov, morto, tritato, cancellato Devastato, deatomizzato, nucleato Smembrato, decapitato Ma che prima Ma c'è il cerchio verde Sulla R Lo vedo, eh Non so, cecco L'ha già tirata Martina L'abbiamo appena killato L'abbiamo appena ucciso Tirando l'arro Genio Dio porco Ma che davvero Kindred Try something else Try another game Porco dio Kindred Disappear instantly Try please Tetris Pac-Man Bomberman Spider-Man Sub-Human-Man Qualsiasi cosa Super-eroe Sub-Human-Man Provo qualsiasi cosa Ma basta Ma basta Grazie a tutti.